Come eseguire droni mod Grazie alla modalità droni il nostro Mavic Mini sarà in grado di alzarsi e spostarsi all'indietro continuando ad inquadrare un soggetto selezionato. Per eseguire un droni basta entrare nella funzione QuickShot, selezionare droni e impostare una distanza di un soggetto da inquadrare. Per selezionare il soggetto basterà premere una volta o creare un piccolo riquadro su di esso. Dopo aver cliccato start e atteso 3 secondi il drone inizierà ad alzarsi allontanandosi in modo graduale in direzione inclinata inquadrando sempre il soggetto selezionato. Possiamo interrompere in ogni momento la modalità spostando gli stick su radiocomando o cliccando sulla X dell'applicazione. In descrizione troverete tutti gli articoli sul DJI Mavic Mini e i link con i prezzi sempre aggiornati per acquistarlo nei vari store. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e ci vediamo ad un prossimo video.